Ma più del gol o comunque della vittoria perché aspettavamo, perché dopo aver fatto male a Foggia comunque ci siamo riuniti, abbiamo parlato tra di noi, allenatore, società e non vedevamo l'ora di giocare, che arrivasse domenica All'allenatore gli ho detto no, perché comunque qui non c'è un titolare fisso tutti siamo dei bravissimi ragazzi e hanno tutto un grande potenziale quindi servono tutti quanti, chi gioca gioca Oggi posso giocare, io domani posso giocare Maita, posso giocare Candellone, Simeri che è rientrato oggi tutti possono dire da loro Sì, più giochi più prendi di condizione, comunque posso dire che sto aumentando il mio minutaggio e anche grazie al Ministro che mi ha fatto giocare ho aumentato la mia condizione che non è al massimo ma comunque devo lavorare No, ma è un gruppo che alcune persone già le conoscevo, ho anche giocato l'anno scorso e comunque sono dei bravissimi ragazzi, mi hanno fatto sentire subito al proprio agio e comunque tutte le partite vanno affrontate con anima e cuore se no non vai da nessuna parte